La procura distrettuale ha delegato personale del commissariato di Acireale a dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania nei confronti di Salvatore Albicocco, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto gravemente indiziato della commissione di 5 furti aggravati e di un tentato furto, il tutto commesso ad Acireale nel periodo compreso tra l'8 maggio e il 13 luglio del 2022 in danno di esercizi commerciali. Le indagini hanno preso avvio da una serie di furti perpetrati ad Acireale con conseguente crescente allarme sociale nell'ambito della comunità accese. In esito agli approfondimenti investigativi effettuati dalla Polizia su direttive della Procura della Repubblica, si è avuto modo, fin nell'immediatezza dell'accadimento dei fatti, di ricondurne la presunta responsabilità ad Albicocco. La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo ha quindi permesso l'emissione di una misura cautelare nei suoi confronti con il soggetto che è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania a Piazza Lanza.